L'Indo-Italian Agri-Food Tech Center è un progetto promosso dall'Indo-Italian Chamber of Commerce con il supporto della Regione Emilia-Romagna in partnership con diversi partner istituzionali italiani tra cui Federuna Coma e una proposta di servizi e attività promozionali per permettere alle aziende italiane già presenti sul mercato indiano di sviluppare e consolidare la propria presenza sul mercato e a quelle non ancora presenti o che hanno dei flussi commerciali agli albori all'inizio di aumentare la loro presenza sul mercato indiano. Gli strumenti attraverso cui l'Indo-Italian Agri-Food Tech Center intende fare questo sono sostanzialmente tre. Da un lato attività promozionali di visibilità di tutte le aziende partecipanti sia in Italia che in India. Il secondo luogo è l'organizzazione di alcune dimostrazioni in campo in alcuni territori specifici, in alcuni stati indiani specifici. E il terzo punto è quello di offrire servizi di identificazione e selezione di partner o di clienti in stati o in territorio in cui l'azienda italiana non è ancora presente anche lavorando in collaborazione con importatori e distributori locali. Questo progetto è il risultato di una collaborazione che l'Indo-Italian Chamber of Commerce ha da ormai 4-5 anni con la Federona Coma che supportiamo nell'organizzazione di alcuni test fill, alcune dimostrazioni in campo e ricordo in particolare quelle fatte nello stato del Punjab nel 2013-2014, quelle fatte nello stato del Marasch nel 2015 e l'ultima che risale ad agosto 2016 in cui è emersa in maniera molto evidente la necessità da parte delle aziende italiane e anche dei loro partner locali di avere un referente, una piattaforma comune su cui poter contare per fare tutta questa serie di attività promozionali dimostrative e di business development, le chiamerei. Ad oggi abbiamo un nutrito gruppo di aziende emiliano-romagnone, ma non soltanto, attive in tutta la catena dell'agroindustria, quindi non soltanto meccanizzazione agricola e tecnologie post-raccolto, ma anche trasformazione alimentare e packaging alimentare. non soltanto, abbiamo anche realizzato e siamo in corso di espansione al punto di vista di partnership con istituzioni locali, nella fattispecie alcune cooperative di coltivatori di uva da tavola che hanno una domanda particolarmente alta di macchinari per questo tipo di coltivazioni, vedi gli sprayers, ma non soltanto, e stiamo lavorando con altri stati indiani come lo stato del Karnataka, lo stato del Madhya Pradesh, che hanno una produzione agricola particolarmente alta e per cui la necessità di meccanizzare quanto più possibile la produzione agricola e il loro territorio è una delle priorità più sensibili.